Buon anno, buon 2018 dal De Luca e Rossano di Pichequenze per il primo nato 2018 che è arrivato all'1.06 minuti, si tratta di una femminuccia, quindi l'anno si apre al femminile proveniente dall'ambito del Comune di Massa Rubrense. È in ottime condizioni, i genitori ancora non ci possono ricevere. Iniziamo questa giornata di Capodanno con questo annuncio felice al femminile.